Tra evoluzioni normative, giuste applicazioni per un corretto sostegno alle imprese? Innanzitutto io direi, ho anticipato che Astral rappresenta il comparto delle imprese impiantistiche. Un comparto assolutamente rilevante per il nostro mercato italiano, in quanto la componente tecnologica all'interno della nostra vita quotidiana rappresenta un elemento significativo, sia dal punto di vista della sicurezza, ma della fruibilità del nostro bene comune e quindi le imprese che operano in questo mercato sono assolutamente importanti per quello che è la crescita e l'attenzione sulla sicurezza dei nostri cittadini. E' fondamentale che le imprese abbiano conoscenza di cosa oggi il mercato offre, ma soprattutto abbiano anche quella competenza necessaria a garantire una corretta installazione. Quindi il ruolo come associazione è di dare alle imprese questa opportunità, ovvero di conoscenza di che cosa sta cambiando sotto il profilo legislativo, ma anche conoscenza di ciò che serve per poter garantire una corretta realizzazione a regola d'arte. E quindi, diciamo, Astral si propone sia come associazione che è presente negli enti normatori per un corretto sviluppo di questa normativa, ma anche come soggetto a supporto delle imprese in temi di erogazione di quella necessaria formazione utile ed in grado di far crescere le imprese.